Oggi siamo andati al Forlanini a fare il tampone perché in classe di Chiara c'è stato un caso positivo quindi siamo andati a fare il tampone e abbiamo fatto da nascosto una piccola ripresa per farvi vedere appunto come funziona il tampone e per tranquillizzare tutti i bambini che devono andare a farlo. Allora guarda è un po' fastidioso ma usiamo quello piccolo che qui non ti dà. Apri grande la bocca, grande grande e solleva un po' la testa. Dia? Ancora? Ferma, ferma. Ok, adesso metti la mascherina sulla bocca lasciando fuori il naso. Ferma, ferma. Così è fastidioso, calta la narice e ti lascio perdere. Com'è il tuo nome? Allora Chiara, dici il tuo parere, com'è questo tampone, è fattibile o no? Fattibile sì, era solo molto fastidioso. Quindi si può fare tranquillamente insomma? Sì, sì. Ok. Allora, se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e nei commenti sotto fatemi sapere se avete qualche dubbio o chiarimento da chiedermi, vi rispondo volentieri. Grazie. Grazie. Grazie a tutti